Resolve mette a disposizione diversi tipi di color wheels. Alla base offrono tutte la stessa tipologia di intervento, sia la possibilità di modificare colore e luminosità di determinati intervalli luma dell'immagine. Tali intervalli e il loro grado di sovrapposizione però variano e possono essere più o meno modificabili in base a quali color wheels si stanno utilizzando. Sono queste differenze a rendere ogni pannello di color wheels più adatto a certe categorie di interventi piuttosto che ad altre. Iniziamo dalle primaries. Qui l'immagine è divisa in lift, gamma, gain, ossia semplificando per gli interessi di questa trattazione in ombre, mezzi toni e alte luci. E poi ovviamente abbiamo l'offset che agisce sull'intera immagine in maniera indiscriminata. Nelle primaries l'intersezione tra le varie zone è molto ampia, quindi sebbene ogni wheel agisca principalmente su uno dei tre intervalli luma appena menzionati, in una qualche misura va a influenzare anche gli altri due. Spingendo un po' il lift per esempio si vede subito come l'intervento arrivi rapidamente alle alte luci. Le tre ripartizioni luma sulle quali si basano le wheels dei primaries possono essere rappresentate graficamente in questo modo. È chiaro che se vogliamo essere selettivi con le primaries dobbiamo necessariamente controbilanciare ogni intervento. Ogni volta che muoviamo una wheel in una direzione ne dobbiamo muovere un'altra nella direzione opposta. Per esempio se voglio alzare i mezzi toni senza portarmi dietro le ombre, mentre ruoto in senso orario il gamma devo ruotare in senso anti-orario il lift. E per compensare l'influenza del gamma sul gain dovrò probabilmente intervenire anche su questa terza wheel in senso negativo. Le primaries bars, dette anche printer lights, non sono altro che le primaries wheels con un'interfaccia grafica diversa. Tra i due pannelli non cambia assolutamente niente, tanto che le modifiche fatte da una parte le ritroviamo anche nell'altra. Possiamo quindi passare direttamente alle color wheels log. Qui anziché lift gamma e gain troviamo shadow, midtone e highlight, ma il senso è identico, ombre, mezzi toni, alte luci. In questo caso però le tre zone luma sono definite in maniera molto diversa. La sovrapposizione tra diversi intervalli è molto ristretta, le ombre sono completamente separate dalle alte luci. Queste wheels sono concepite per interventi più raffinati rispetto alle primaries. Inoltre, grazie ai comandi range, io posso definire con un buon margine di libertà quale intervallo luma affidare a ogni wheel. Il low range determina il limite alto della wheel shadow, che ha come base sempre lo zero, ossia il nero, mentre l'high range indica il limite basso di competenza della wheel highlight, che ha come tetto sempre l'uno, ossia il bianco. Ne consegue che l'area tra low range e high range diventa pertinenza della wheel midtone. L'offset, che interviene sull'intera immagine in maniera non preferenziale, funziona esattamente come nelle primaries. Arriviamo così alle wheels HDR. Queste sono in sostanza l'evoluzione delle wheels log. Ora non solo posso determinare qual intervallo luma affidare a ogni wheel, ma ne ho a disposizione un numero doppio, per interventi ancor più definiti. Di ogni wheel posso stabilire il range e il fall off, ossia l'area luma di pertinenza e quanto i confini di quest'area debbano essere sfumati. E nel monitor di preview posso verificare su quali zone dell'immagine ogni wheel stia agendo. Attivando il comando highlight, shift h, posso verificare in tempo reale come la zona di influenza di una particolare wheel si stia modificando mentre ne altero i parametri. È un procedimento molto simile a lavorare col qualifier utilizzando per la selezione solo il criterio luma. Ora direi che abbiamo tutti gli strumenti per esplorare in autonomia queste tre tipologie di wheels e decidere di volta in volta quale sia la più utile ai nostri scopi. Prima di chiudere però ci tengo a riflettere con voi su una cosa. Gli strumenti migliori quando si tratta di color grading non sono né quelli più complessi né quelli più selettivi. Più uno strumento è complesso, più parametri offre, più tempo richiede per essere utilizzato. E gli interventi più selettivi sono quelli più difficili da far passare inosservati, quelli che hanno più possibilità sia di apparire naturali che di danneggiare le immagini creando artefatti. Non solo, gli interventi più discriminatori sono anche quelli che hanno meno possibilità di essere applicabili su un ampio numero di clip in timeline anziché su una sola. In conclusione lo strumento migliore per una determinata operazione è sempre quello più ampio e più semplice possibile. Perché sarà quello più veloce da applicare, meno dannoso per l'immagine e con maggiori possibilità di risultare naturale, invisibile allo spettatore e applicabile su un ampio numero di clip dello stesso progetto. Molto spesso viene da pensare che più si diventa capaci nel lavoro di colorist, più si iniziano ad utilizzare strumenti e procedure complesse. In realtà è esattamente l'opposto. L'esperienza serve per arrivare a destinazione scegliendo la strada più breve e più semplice da percorrere. In conclusione saper scalare è utilissimo ma ancor più utile conoscere il sentiero che aggira la montagna.